San Marzano di San Giuseppe festeggia le proprie tradizioni e quelle del sud con il Medfest, itinerari culturali in terra ionica. Questa sera, a partire dalle 19.30, il centro storico ospiterà vari percorsi uniti dal tema del brigantaggio. È una maniera insolita ma strettamente legata al territorio per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Un tema che ricorrerà nella presentazione del libro di Lino Patruno al Palazzo Marchesale e un'ora dopo nello spettacolo che la compagnia Inchiostro Simpatico porterà in scena sulla figura di Pizzichicchio, leggendario brigante nato nel paese di origine albanese. L'area del meridione post-unitario si respirerà anche nelle musiche suonate da diversi gruppi negli angoli del centro storico perché l'altro protagonista assoluto del Medfest sarà proprio la San Marzano Antica. Spazio anche all'arte con il Med Gallery lungo le scalinate del centro storico e alla fotografia con due mostre di Giovanni Cito e dei ragazzi dell'Istituto Calo di Grottaglie. Suggestioni per i cinque sensi grazie anche al percorso enogastronomico con i vini e i piatti tipici locali, concertone finale delle Pietre vive del Salento, uno spettacolo che tra musica, danza e narrazione racconta la taranta, le emigrazioni di massa, il brigantaggio e la gente del sud.